Grazie. Finanziare o addirittura prendere un secchio di vernice e andare a pulire i muri dove vengono così imbrattati e poi magari organizzare i murales di qualità nei sottopassi ferroviari come è stato fatto e altre cose. Però adesso parlando perché l'avevo invitato per parlare di questi murales ormai un paio d'anni che lavora su questo progetto di riqualificazione dal redo urbano diciamo di Treviglio e non solo mi sembra che anche a Londra opera in questo modo perché lavora Italia e Inghilterra per la sua attività diciamo imprenditoriale e poi parlando di questa cosa ma guarda non posso vengo dopo vengo prima eccetera eccetera ma cosa cavolo stai facendo? Devo andare nelle Marche, devo andare a Marche a fare. In Umbria. In Umbria si è andato, in Umbria si è andato, in Umbria si è andato, è andato là perché? Perché ha messo in piedi un'altra operazione benefica. Spieghiamo un po' perché poi non abbiamo neanche avuto tempo di parlare. Certo, allora in sostanza nello scorso mese di ottobre avevo organizzato un aperitivo sul campanile nel quale era intervenuto anche il sindaco Yuri Medi a fare proprio il barista. Abbiamo fatto una raccolta fondi e in sostanza avevamo raccolto più di 3.000 euro al netto delle spese. Questi soldi avevamo pensato di dividerli in due, di devolverne una metà per i terremotati e l'altra metà per realizzare nel corso del prossimo anno interventi di decoro urbano, quindi ancora grafiti sul territorio tervigliese. E poi c'è stato il terremoto. Qualche settimana dopo c'è stata la seconda scosta, quella che ha riguardato Norcia. Allora ho pensato, ho parlato con gli altri volontari che avevano collaborato, di utilizzare momentaneamente la metà che dovevamo devolvere per i graffiti per cercare di aiutare di nuovo le persone colpite dal terremoto. Sono andato tre volte a Norcia l'ultimo venerdì scorso e ho portato a caso un po' di prodotti. Contemporaneamente abbiamo, come al solito, battagliato molto sulla comunicazione, sulle amicizie, sugli imprenditori, Facebook. E in sostanza abbiamo venduto 300 cesti di prodotti alimentari. Abbiamo realizzato più di 10.000 euro. Siamo quasi a 11.000, stiamo ancora aspettando le ultime raccolte perché poi siamo, da cosa nasce cosa, tanta gente è mossa dalla generosità e tutto. Per cui hanno realizzato lotterie, hanno realizzato eventi, per cui stiamo ancora raccogliendo soldi. Io penso che ci avvicineremo agli 11.000 euro. Ecco, raccontaci un po' di questo viaggio. La prima volta sono andato, in realtà la prima volta ero a Roma per lavoro e siccome il tempo stringeva, da Roma ho noleggiato una macchina e sono andato a Norcia. Sì, ho trovato una situazione più che altro triste, più che altro pesante perché si vedono le tende, si vedono gente sfollata. Le persone sono state tutte soccorse. Chi è stato messo negli alberghi, chi ha trovato rifugio. Grazie. 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 Anche all'Aquila, ecco. Per cui niente, siamo andati. La prima volta ho portato a casa prodotti per fare qualche cesto dimostrativo. Quindi avete preso prodotti, siete andati da… Avevo fatto una ricerca in internet, ho trovato alcuni fornitori e qui la prima cosa adesso la posso dire perché abbiamo finito di vendere i cesti. Prima per motivi commerciali non potevo dirlo. E cioè 8 fornitori su 10 non hanno più merce. I due o tre fornitori dai quali ho acquistato hanno venduto quest'anno 10 volte quello che hanno venduto l'anno scorso. Prima non lo dicevo perché se no sarebbe stato un disincentivo vendere. La solidarietà gli ha permesso di salvarsi. La solidarietà gli sta permettendo di rimettersi in piedi. Loro chiedono di non essere lasciati soli dopo Natale perché per Natale ovviamente c'è stato il boom. Dopo Natale sperano che tutto non cada nel dimenticatoio. Però sicuramente noi italiani ci inventeremo qualcosa d'altro in primavera. Un po' come era stato fatto con i formaggi. Esatto. Mi sono ispirato a questo. Non c'è molto da inventare. Io ero proprio ispirato a questo. Però siccome non lo faceva nessuno sono andato giù direttamente. Ecco ma senti tutte queste cose che tu fai le fai tu prima persona e coinvolgi altri o c'è un gruppo? Allora ho iniziato da solo. Poi sai da cosa nasce cosa. L'esempio serve. E comunque adesso ho alle spalle un gruppo di volontari che si impegnano giorno e notte. A volte mi arrivano messaggi messenger di notte alle tre. Vado a vedere. Guarda che questo mi ha detto tre cesti, quattro cesti. Diventa un po'... diventa bello. Ecco si limita a queste tre settimane. Si è limitato a queste tre settimane veramente intense. Adesso che arriva Natale finalmente ci riposeremo un po'. Però diciamo che abbiamo lavorato bene. Senti abbiamo ancora qualche minuto per cui magari mi piacerebbe ascoltare da te qualche storia. Cioè persone che hai conosciuto lì in questa anorcia o comunque... Allora sì 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 sicuramente. Alla fine del secondo viaggio dove ho portato a casa merce per i primi cento cesti. Il mio fornitore, dico il mio fornitore che avrò bisogno del doppio della merce che stavo portando via per fare altri duecento cesti. Questo è sbianca. E mi dice io non ce l'ho tutta questa merce. La sto finendo. Non ce l'ho. E allora niente vado un po', guardo la zona rossa, faccio due foto. Siccome avevo un furgone ed era un estraneo, mi fermano i carabinieri. Mi chiedono chi sono, gli spiego tutto, gli faccio vedere la merce, la fattura d'acquisto e tutto. E gli dico qual è il mio problema che adesso non... insomma i carabinieri si attaccano al telefono. Ah. E hanno trovato loro, un paio di fornitori. Vabbè? Sì. E quindi è risolto così. Quindi siete andati là e che prodotti erano? Salumi, formaggi, olio, soprattutto l'olio. L'olio è molto buono da quelle parti. E poi è tutto buono. È tutto buono. Poi la pasta stessa, piuttosto che le lenticchie. Ci sono un po' di prodotti, anzi ecco se qualcuno fosse interessato. Adesso abbiamo un canale diretto per cui anche dopo Natale siamo in grado di fornire prodotti. Qualcosa ci è avanzato perché comunque avevo comprato un po' di più, perché avevo richieste di prodotti sfusi. Siccome non siamo un negozio ho dovuto stare attento perché qualunque soldo spendessi senza realizzare un introito erano soldi sottrati al terremoto per cui ho limitato molto. Sono stato un po' certosino negli acquisti. Qualcosina è avanzato ma c'è sempre la possibilità di avere altri prodotti in seguito. Ecco, ma come contattarti? Su Facebook sono contattabile tranquillamente, Marco Guerini. Marco Guerini, ti trovano. E comunque esiste proprio una pagina di cesti di Norcia. Ah, cesti di Norcia. Cesti di Norcia di beneficenza perché poi ovviamente noi abbiamo chiesto a tutti di pagarci tramite bonifico bancario con i soldi che andassero sul conto corrente del distretto del commercio piuttosto che della cooperativa Insieme che ci ha aiutato in tutta questa organizzazione. Ah, quindi ecco, quindi ci sono anche le associazioni. Abbiamo coinvolto anche la cooperativa Insieme in modo che gli imprenditori che volevano... Spediamolo cos'è la cooperativa Insieme. La cooperativa Insieme è una cooperativa che da vari anni si occupa di ragazzi diversamente abili sul territorio di Treviglio e Limitrofi li fa lavorare, è una cooperativa molto attiva e si sono stati subito contenti di aiutarci in questa iniziativa. Diciamo che sono ragazzi, ragazzi tra virgolette, nel senso che alcuni sono... Alcuni sono anche a due oltre. Che comunque sono limitati e però si realizzano in questa cooperativa facendo dei prodotti, confezionando qualcosa... Sono molto impegnati, si impegnano loro stessi... E' una bellissima esperienza, io le ho avvicinati diverse volte, è una bellissima esperienza che ti coinvolge perché poi ti affezioni a questi ragazzi, tra virgolette, e gli hai una mano. E la cooperativa è stata ben felice di aiutarci in questa cosa, avevamo bisogno di un supporto logistico e ci hanno collaborato molto volentieri. Per cui sì, è stata una cosa a tre con il Comune, per cui come dicevo abbiamo preferito che tutti i soldi non transitassero con tanti perché in queste cose c'è sempre qualcuno che spera di speculare. Quindi come dicevo in fase, finché noi quando abbiamo raccolto i soldi per le ambulanze abbiamo mandato di pagare, di versare la fondazione a questo uguale in modo che noi stiamo verso gli imprenditori. Io ho un paio di imprenditori, per esempio ho avuto due imprenditori che mi hanno ordinato 120 cesti in due, hanno ricevuto la loro regolare fattura con l'IVA esposta dalla cooperativa insieme. Ah, dalla cooperativa. Sì, perché il distratto del commercio di Treviglia non ha partita IVA per cui non poteva rilasciare fattura. Quindi loro sono strumento per poter fare questo tipo di operazione. E poi ci hanno aiutato nel confezionamento, ci hanno dato una mano anche proprio nella realizzazione pratica. E voi gli avrete dato anche un contributo a loro. Sì, sì, sì. E ecco, questi imprenditori hanno fatto il bonifico direttamente. E adesso devolverà i soldi al Com, che è questo conto corrente dei 18-19 comuni della bassa Bergamasca. Per cui andiamo con i nostri soldi ad unirci a questo che poi era la raccolta fondi con la matriciana solidale in piazza. Ti impegnerà un po' questo o queste cose qui? Questo mi ha detto tutto il mese di dicembre. Praticamente tutto il mese di dicembre. E l'ho messo un po' da parte. Il lavoro l'ho messo un po' da parte. Vabbè ci avremo un'organizzazione che ti supporta, immagino. Allora, grazie a internet il mio lavoro con Londra posso farlo anche dall'Italia. Il cliente mi chiama, ha bisogno di qualcosa, gli preparo la spedizione. E la merce va direttamente dalla Franciacota a Londra, al singolo cliente. Però diciamo che il mese di dicembre sì, ho dovuto rinunciare a qualcosa, però va bene così. Senti, abbiamo un paio di minuti per raccontare il futuro, quella che c'è in mente, questa testa vulcanica. Adesso, dopo che sono stato scottato dall'episodio della stazione centrale, torniamo al discorso dei quadri. Questi erano quadri, questi erano effettivamente affreschi. Dedicati a alcuni personaggi storici, Einstein, Leonardo, Dante, Alighieri e Galileo Galilei. Sì, che sono stati sbiancati da RFI. Nel sottopasso della ferrovia. Per errore, mettiamola così. E sto ancora aspettando che mi contattino per il ripristino. Si sono scusati, almeno si sono scusati. Si sono scusati mezzo stampa, però hanno anche detto che mi avrebbero ricontattato per ripristinare. Come dicevo settimana scorsa, è passata un'altra settimana e non ho sentito nessuno. Però, vabbè, aspettiamo fiduciosi. Comunque, dopo questo, onestamente, mi sono un po' raffreddato su questo genere di esperienze in Italia. Un po' per la burocrazia, che però, devo dire la verità, fino adesso ho trovato tutta gente molto disponibile. Tempi lunghi, ma persone disponibili. Ma soprattutto per la mancanza di rispetto che c'è stata verso me, gli imprenditori che avevo coinvolto, e soprattutto l'artista che aveva realizzato il tutto. Per cui abbiamo in programma una cosa, perché ce l'avevamo in programma dall'anno scorso, e avevamo già raccolto i fondi, che erano i soldi che abbiamo utilizzato momentaneamente per acquistare i prodotti di Norcia, e che abbiamo moltiplicato. Adesso li rimettiamo al loro posto e dovremmo realizzare un'opera in centro a Treviglio. Però non posso ancora sbilanciarmi, perché dovevo definirla meglio col sindaco, prima di annunciarla. Benissimo. Allora, io ringrazio tanto Marco Guerini per questo suo impegno sociale entusiasta, e perché insomma ha cambiato un po' la faccia la nostra città, e speriamo che sia esempio anche per le altre, per questo lavoro di volontariato importante per i telemotati. e aspettiamo di sapere questa cosa, e poi magari sarà ancora qui con noi nel 2017 a parlare di queste cose. Grazie, buon lavoro e tanti auguri. Grazie a voi, buona giornata e buon Natale a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.